Ora, ricreare il rapporto di fiducia tra i cittadini e il sistema sanitario attraverso la conoscenza, l'informazione e la valorizzazione della buona sanità. Questi temi affrontati durante la tavola rotonda sul tema e ruolo dell'ordine dei medici nella quotidianità professionale tra New Deal deontologico e sanità burocratizzata che si è tenuta presso la sala convegni del Castello Gallego a Sant'Agata Militello. Dalla qualità della sanità allo snellimento delle procedure gestionali ed amministrative al coinvolgimento di tutti gli attori, medici, operatori e istituzioni verso un unico grande obiettivo, ridefinire modi e forme del sistema sanitario perché esso sia finalmente orientato verso i bisogni e le esigenze dei cittadini. Ormai diciamo che è tutto cambiato perché si è passato da quello che era un rapporto diretto fra il medico ed il paziente che doveva assicurare le migliori cure possibili per il proprio paziente, si è passato ad un ingigantimento della situazione dove si deve tenere conto non solo della salute del paziente ma anche dei costi che questa salute produce per lo Stato. Per cui questo ha reso molto più complesso il rapporto che esiste fra l'utenza e la classe medica. L'eccessiva burocratizzazione ha fatto sì che non ci si arrivi più ad avere un rapporto personale ma spersonalizza parecchio quello che è il rapporto medico-paziente.